Ciao a tutti i coach, ben ritrovati da vostro, andrei in 91 finalmente su Ever Oasis Sono molto eccitato all'idea di provare questo gioco E dunque iniziamo subito con la scelta del personaggio A dire il vero di questo gioco so solo quello che si è visto nei trailer Quindi Ah, scegliamo anche il colore della pelle, rosso Oppure gay, non d'orso, possiamo anche scegliere Ah, ok, quindi spero che anche nel gioco venga tenuta questa cosa delle etnie Ma gli occhi, boh, cioè non devono per forza rispecchiare la realtà, ma andiamo così Tetu? Che nome è Tetu? La cosa che so per certa di questo gioco è che bisognerà farmare Farmare tanto O grandare, come lo chiamate voi Dipende poi dai punti di vista Dati salvati Bene C'era una volta un grande deserto In quel luogo vivevano delle creature chiamate i bulbini I bulbini si chiamano così proprio perché nascono con un piccolo bulbo dentro il loro cuore Con il dono dell'acqua i bulbini riuscirono a far crescere le piante E resero rigogliose larghe porzioni di deserto Nel deserto era presente anche una forza oscura chiamata caos Il caos entrava nel cuore degli esteri viventi e li corrompeva fino a tramutarli in mostri del caos E così i bulbini vivevano in questo deserto ostile Nella costante paura del caos Ma un giorno un bulbino coraggioso Chi aveva il seme del grande albero si oppose al caos per proteggere i suoi amici I bulbini di grande albero e lo spirito dell'acqua unirono le forze per creare una bella oasi Su cui brillava un arcobaleno grande e colorato Il caldo bagliore dell'arcobaleno avvorgeva l'oasi Tenendo da larga il caos I bulbini erano salvi In seguito altri bulbini con il seme di grande albero crearono tante oasi in giro per il mondo E fu così che i bulbini crebbero felici e contenti Fino a oggi Ok e questa era la storia principale Buongiorno Andrea scoppi di allegria eh E noi non parliamo mai Proprio classico Bene allora potrò contare anche oggi su tuo aiuto per il mio lavoro di capo oasi Verrai giorni in cui anche tu Andrea creerai la tua oasi E per prepararti adeguatamente inizierai fin da ora a lavorare come un vero capo Allora Andrea avrei subito un favore da chiederti Ultimamente si accumula della sabbia nel vivaio e ciò rende arduo il raccolto Usa la magia del vento per fare piazza pulita Andrea Dattila fare mi raccomando Mi dici dove è il vivaio per favore Ci sono delle dunne di sabbia nel vivaio L'esperdio si andrà a mangiare il vento Conto su di te Vabbè boh io ci provo Non posso Allora vediamo un po' Ah ok con Y si fa la magia del vento Il vivaio è dall'altra parte Ok allora Mmm Boh no so andiamo di qua Yagir No è Yega Teppo Oh Andrea per adesso non puoi andare nella strada principale Ok Allora andrò di qua Qua c'è il vivaio di qua Spero di sì Perché mi sono già perso Ok sembra che Ah sì è questo Vabbè già ci sono i cumuli di sabbia Due cumuli di sabbia Mmm Mi è venuta in mente una cosa da fare Vorrei mettermi sulla traiettoria del Dell'altro Ah ok Mmm Vediamo un po' se si accumula dall'altra parte No si disperde da sola Perfetto Già fatto E questo rendeva ardo il raccolto Bab No non va bene Va malissimo E là Salve signora Che pianta inquietante Meglio farla sparire Ah parlo O forse Io penso di parlare L'unica magia che so fare È quella del vento Che ovviamente non funziona Eh certo Andrea All'andrarti da quella pianta Ah ok Finché Ci sono Almeno a un metro di distanza Perfetto Non credevo che una pianta del caos Di tali fattezze potesse crescere Nella mia oasi Ma ci ragionerò con calma più tardi Adesso devo estirpare la prima possibile Non funziona la magia del vento Ah ok Conti funziona Certo Capo oasi Più possiamo tirare un sospiro di sollievo Quella era una pianta del caos Con un'enorme energia negativa Per estirparla è necessaria una magia del vento Molto forte Andrea Quando anche tu diventerai un capo oasi In piena regola Riuscirei a scatenare un vento più forte Qualcosa mi dice che sarò in grado anche prima A proposito E ripulito l'aria della sabbia Andrea Ottimo lavoro Questa è una ricompensa speciale Per avermi aiutato Per comprarti qualcosa Alla fiera di domani Hai ottenuto 100 acquagemme Che le acquagemme poi so che si farmano Anche combattendo contro i mostri Quello intendevo prima di farmare Andrea Andresti a parlare con tutte le persone Che passeggiano sulla strada principale? Vorrei sapere cosa hanno da dire I proprietari delle botteghe Conto su di te Ma Non voglio lavorare Voglio ammazzare qualche Qualche mostro Ah Ok Ah bello Ok No Vorrei esplorare un pochino il paesaggio Per vedere Cosa c'è da fare Ah posso andare anche di qua Ma secondo me mi riporta all'oasi Ecco strada principale Per l'appunto Salve Connie Voi bulbiri Voi bulbiri siete un vero mistero Il nostro popolo non sarebbe in grado di creare oasi Perché non ho letto la parte prima Ruota melodica Delipiant Delipianta Fortupianta Ma Ok Oh salve Parla Non vedo l'ora di partecipare alla fiera di romani Vabbè per il momento Ne farò meno Allora devo parlare anche qui Mantelli Oh Andrea Hai già concluso l'addestramento di oggi Non l'ho neanche iniziato Credo A meno che non fosse fare Quella piccola magia del vento I germogli di grandi albero Sono in grado di creare le oasi Anche tu un giorno diventerai come il tuo fratello Ma anche meglio eh Vorrei diventare anche meglio il mio fratello Se permetti Sofì Cosa Eeeh Questa Sofì La sorgente al centro dell'oasi Aspita uno spirito protettore Mi piacerebbe incontrarla almeno una volta Ma a quanto sembra solo il capo oasi può farlo Ok Mio dio Cos'è Ehi la salve Eeeh Grazie ai rifornimenti di ieri Ora sono pieno di libri Ma chi li vuole i tuoi libri Cioè per ora no Posso spingere la gente Ma cos'è Allora posso andare tipo che ne so Qua Oh no Muro invisibile Ehi la Andrea Hai già concluso l'addestramento di oggi Ecco prendi Ho sintetizzato qualcosa per te ieri Ah ok Quindi saremmo anche in grado di fare pozioni Zamza Questo è un ciclope Piccolo ciclope appena nato Ah mentre venivo qui mi sono inseguito Sono stato inseguito da un mostro del caos Il deserto è davvero pieno di insidie Se non ci fosse questo oasi Brrrr Salve entra pure Parliamo Domani inizia la fiera e i pingufi sono già in arrivo Sono piccolini ma molto generosi Le vendite vanno a gonfi veri grazie a loro Bello Ci sono Praticamente questo oasi È eccezionale Cioè di tutto Anche per recuperare l'energia Ciambella glassata Ciambella croccante Credo Ciambella ricca Che ti fa Quella costa tanto Andrea Tuo fratello è davvero grande Ma perché mio fratello Ma io sono meglio di lui Ok Hai parlato con tutte le persone Torna da tuo fratello Questo fratello Senti Io sono ribelle Eh ah ah ok Niente Più di quello non mi fa andare Quanto è bello per il personaggio Corre saltellando Yuppie Yuppie Andiamo Fratellone Ho parlato con tutti Ora fammi fare cose Grazie Andrea Come stavano tutti Però certo che mio fratello Siamo molto diversi Davvero è bello sapere La felicità delle persone Viene prima di tutto Andrea Osserva l'arcobaleno Che sovraste il grande albero La radiosità dell'arcobaleno Protegge l'oasi Del tremendo potere del caos E lo spirito gioioso Di coloro che vivono nell'oasi Rinforza ancora di più La luce dell'arcobaleno Capisce Andrea L'oasi non può esistere Se le persone che l'abitano Non sono felici Ora lo so Bisogna rendere l'oasi Un posto pieno di felicità In modo da proteggere tutti Nel deserto E questo è il compito fondamentale Di noi germogli di grande albero Verrà il giorno in cui Anche tu dovrai partire E dare vita alla tua oasi Sono certo che potrai contare Su tanti amici eccezionali Andrea Cerca di incontrare nuovi amici Risposti a fidarsi di te E a sostenerti Sono sicuro che un giorno Diventerai un capo oasi Più in gamba di me Oh Cos'è questa scossa Cosa può essere stato Andrea Ma aiutare un'occhia Dalla strada principale Sono state vittime del caos Sicuramente Il loro cuore pure È stato intaccato dal male Wow Si carica Che carino è pinguino Cioè Credo sia un pinguino Sì è un pinguino Madonna Ma cos'è Eh Lo chiedo anch'io Wow Prendi questo Andrà Ecco Andrà scappa De vita A una nuova oasi Lui è stato Sicuramente Sopraffatto dal caos Vento aiutaci La speranza è nel futuro Sicuramente Non penso sia morto Ma Se lo fosse Sarebbe Meglio Cioè nel senso Meglio Nel senso È un gioco Insomma Un pochino più Che tratta tematiche Un pochino più Da Adulti Tra virgolette Ma sicuramente Non è morto Oh no Anche l'ultimo Osi è stato Liberato dal caos Oh Salve Signor Scarabeo Anche tu Non è più Amici Capisco È successo Anche a te L'altro giorno Un'oasi lontana È stato ingriuttito Dal caos Io sono L'unico Spirito Dell'acqua Rimasto Nel deserto Cosa posso fare Signor Scarabeo Non posso Creare Un'intera Oasi Da sola Ma cosa Si mi sa che lei Non può uscire Dell'acqua Oh Questo bulbo Potrebbe essere Sì È proprio Un bulbino Ehi Ma tu riesci a vedermi Se mi vedi Significa che sei Un germoglio Di grande albero Ciao Io sono Esna Sono uno spirito Dell'acqua Tu come ti chiami Andrea È un nome bellissimo Grazie Senti Andrea Perché lui hai preso La forma di un bulbo Capisco Eri nell'osi Che è stata inghiottita Dal caos Qualche giorno fa Deve essere Stato terribile Vedere portare via I luoghi cari E le persone A cui volevi bene Con la scomparsa Dell'osi Anch'io sono rimasto L'unico spirito Dell'acqua Cosa pensi Di fare Ora Andrea Davvero Tuo fratello Ti ha detto Di creare Un'oasi Hai intenzione Di mettercela tutta Ancherin Ricordi Tuo fratello Io Sì anche io Voglio costruire Un'oasi Un'asi Che dura in eterno Che non venga Sopraffatto dal caos Magari Così che tutte le persone Del nostro mondo Non perdono mai il sorriso Andrea Sono sicura Che insieme Ci riusciremo Tu che ne pensi Grazie di cuore Andrea Che i bulbini Abbiamo il potere Di camminare Di camminare Sull'acqua Ciao a tutti Sopraffatto dal caos Grazie a tutti. 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 Andiamo a vedere chi è. Andiamo subito. Aspetta un attimo. No dai, voglio solo vedere cosa c'è lì. Dai. Via. E via anche tu. No, inizio togliendo insomma già un po' di roba. Ah, frotto e lisir. Trovo la roba, bene. Mi fa piacere trovare cose quando levi cumulo di sabbia. Molto interessante. Salve. Tu sei capo di questa oasi, ti chiami Andrea, io sono Lily, piacere di conoscerti. Pensavo che non ci fossero più oasi in questo deserto, ma non ci sono bulbotteghe e nemmeno abitanti a quanto pare. Ah, capisco, questo posto è nuovo, per questo non ci vivono ancora tante persone. Gli abitanti di un oasi si aiutano a vicenda, per questo è importante essere in tanti. E nei cosi che vengono aperti nell'osi si chiamano bulbotteghe. Molti visitatori si fermano nelle oasi proprio per le bulbotteghe. Visto che sono qui, anche io vorrei darti una mano, ma non ho niente da vendere. Potrei cominciare con delle bacche di rosa. La premia di Lily, magari si piantano. Ok, gli eventi importanti vengono sali tutti in blu. Oltre agli eventi importanti, perché porti una richiesta alla volta. Premia. Facca e pulsante impegni. È possibile impostare una richiesta solo dentro l'osi. Ok. Vuoi aiutare subito Lily? Sì. Hai impostato la richiesta di Lily come missione. Gli eventi di un oasi diventano abitanti. Gli abitanti e i bubini possono costruire bulbotteghe. Andrea, sono io! Eh, possiamo chiacchierare quanto vogliamo anche da lontano. Comunque. Sono così felice che sia già arrivata una viandante. Dovremmo costruire tante bulbotteghe per far arrivare altra gente. Su, cominci di arrestare e a costruire una bulbottega. Servono delle bacche di rosa, giusto? Magari che sfondo qui da qualche parte. Eh, speriamo. È successo qualcosa? No, non è successo. Ah, devo andare di là. Ok. No, totem. Questa è la magia di elementi su di un albero con i frutti per raccoglierli. Puoi farlo ogni giorno. Ah, beh, così, insomma, si farma un pochino. Eh, vipo, sono bacche di rosa. Andrea, portale a Lily. Ciao, Lily. Andrea, come va? È successo qualcosa? Consegno bacche, sì? Eh, ho delle bacche di rosa, le raccolte per me. Oh, grazie, sono così felice. Ho ricevuto frutto Elisir. Yeah. Eh, sei gentile, Andrea. Con un capo Osi come te questo posto diventerà meraviglioso in poco tempo. Ho deciso, mi stabilirà qui anch'io. Lily della tribù dei bullini ora abita nella Osi. Ora puoi inventare la nuova bobbottega di frutta. Ah. Ah. Evviva, allora sia un abitante in più. Su, costruisci subito una bull bottega con Lily. Stocca gestione, ecco qua. Dove la mettiamo? Io la metterei... Ma... Mettiamola qui intanto. Ah no, due spazi occupa. No, aspetta qui allora. Voglio metterla più accostata possibile, diciamo, all'uscita. Wow. Wow. Fantastico Evviva la mia bull bottega di frutta è completa La mia gestione si tanto che al limite ci dovrà parlare La prima volta che vedo una bull bottega com'è carina Cioè sono tante cose però non ho mai visto una bull bottega Spero tanto che ce ne siano presto molti di più Ok Oh è già notte Andrea che non dici di andare a riposare? La tua casetta è accanto al tempio dello spirito Va a dare un'occhiata Wow bello Vissuto da lontano Non ci ho fatto caso prima Ma se volessi andare qua Oh posso andarci finalmente Ah c'è lei No no grazie Credo che serva anche per salvare andare a casa Un po' come Mystery Dungeon Che splendida casa sull'albero Che ne dici di stabilirti qui Andrea? Quando avrai tempo potrai venire qui a riposare Quando ho tempo per riposare? Apri i baule Ok Non c'è nulla A parte la roba che ho addosso Scorga tanta acqua limpida e pura Allora credo che Ah ok devo andare qui sull'amaca Salva Devo salvare? Si Quindi Gucci per questo video è tutto È stato un inizio abbastanza Insomma interessante Iniziamo subito con la nostra oasi Io pensavo che avremmo iniziato con l'idea di fare un'oasi Ma che poi per A causa di eventi ovviamente del caos Per il male Diciamo così Non avremmo potuto Invece Già abbiamo la nostra oasi E inizia subito l'avventura Quindi Io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video Che spero vi sia piaciuto In descrizione link Facebook e Twitter Se ancora non siete iscritti al canale Iscrivetevi e noi ci vediamo In un prossimo video Bye bye